Nonostante la chiusura al pubblico, il Parco archeologico di Ostia Antica non smette di regalare sorprese. È stato rinvenuto infatti un sarcofago perfettamente conservato. Le immagini sono state diffuse dal Ministero dei Beni Culturali e raccontano la scoperta e l'operazione di conservazione da parte del personale incaricato. Il ritrovamento in via di Castelfusano è avvenuto per puro caso in un'area privata dove erano in corso lavori da parte di una società di servizi. Nella tomba sono presenti dettagli che rilevano informazioni importanti per risalire all'epoca della sepoltura, all'età del defunto circa 40 anni e alla sua estrazione sociale come il bollo lunato presente su una tegola del coperchio e gli elementi del corredo funerario, oltre a quattro ampolle di un unguento. Il sarcofago ha una forma molto semplice e la struttura permette alla testa del defunto di poggiarsi su una base rialzata con funzione di cuscino che è dotata di tre fori utili per evitarne lo scoppio durante la cottura. Tra gli oggetti del corredo sono stati rinvenuti anche resti di ossa animali, tra cui anche la tibia di un canadulto di grandi dimensioni, probabilmente vecchio e malato. Dopo la pulitura il sarcofago è stato esposto in prossimità del parco, sulla via Ostiense, nel tratto occupato dalla necropoli di Porta Romana.